Domenica 26, tutte le domeniche fino a fine luglio. Vi aspetto in villa per una passeggiata, per un gelato, per stare un po' tutti insieme, con un po' di musica e di intrattenimento. Ringrazio il Conservatorio che ha aderito all'iniziativa, ringrazio l'OFB che ha aderito all'iniziativa. Ovviamente ringraziamo come fondazione il Comune di Benevento che ha accettato il nostro partenariato. Quindi questa seconda edizione interamente organizzata insieme con il Comune, ma per la prima volta, c'è lì Operda che mi vede, Operda Picucci, presidente di fondazione, Fondazione Benevento Città Spettacolo entra a organizzare un evento dall'A alla Z come quello di Domenica Armoniche. I Trementisti è un gruppo di Benevento, Fabrizio Cusani, un mio amico, un professionista, e quindi sono contento di aprire con loro. Quando dico un mio amico, mi viene da ridere perché a Benevento ci conosciamo tutti, poi io faccio il mio lavoro da tanti anni, quindi sono amico di tutti quelli che fanno questo lavoro. Quindi conosco Fabrizio da anni, ha fatto con me anche cose in Rai, li ho fatti fare io, facevo un programma per la Rai e l'ho chiamato con la Play Toy Orchestra a fare questi speciali su Rai 1 e qui insomma mi fa piacere collaborare con loro. Quindi venite domenica alle 18 nella villa comunale, ci stiamo insieme, un po' di fresco, insomma è molto bello. Del comune, in termini economici, niente, il comune ha messo la villa, dice poi vi dovete pure i soldi, ha messo la villa e quindi insomma poi i soldi, sponsor, cose, ora come confondazione si stiamo muovendo. Grazie a tutti.